Una sciagurata prestazione impensabile alla vigilia dopo lo splendido 3-0 di gara 1 porta Labba Pineto alla bella in programma domani sera contro una Versa che lucidamente e meritatamente ha vinto 3-1 in gara 2 dei quarti di finale. Squadra senza il giusto temperamento quella pinetese stavolta con alcuni elementi base in serata decisamente no, con troppi errori in battuta e con una ricezione in evidente affanno. Un plauso a parte al giovane Catone subentrato in corso d'opera, un partenio non brillante, recuperi in bimaschile 0-3 in influente dell'alba con il forte macerata ma seconda fase assicurata da tempo. In b1 femminile vittoria preziosa al tiebreak della connetti Chieti a Trevi, un successo che tiene in vita la speranza delle tiatine di passare il turno a patto che facciano punti nel doppio scontro col Cisterna, domani in terra laziale, domenica a Nocciano dove le neroverdi giocano.